GF VIP 7, sulla casa vola un aereo, e c'entrano i donnalisi, le reazioni dei vipponi. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, ovvero i donnalisi, non sono più nella casa del GF VIP. Ma nonostante ciò continuano ad arrivare aerei dei fan che li sostengono. Nello specifico, sopra la la casa più spiata d'Italia è arrivato un aereo con la scritta Siete state solo comparse nel GF dei donnalisi. Chiaramente rivolto ai vipponi ancora in gara e a sostegno di Edoardo e Antonella. Che invece stanno vivendo la loro storia d'amore fuori dal reality. La cosa ovviamente ha provocato una reazione nei geffini, che hanno commentato il particolare aereo. Edoardo Tavassi ha esclamato, amare contro di noi, ma noi siamo qua, mentre Niccolin Curvaia ha salutato i fandom dei donnalisi con un ciao belli. Anche Oriana Marzoli ha detto la sua affermando, ma veramente pagate per questo? Mentre tutti gli altri presenti in giardino hanno ridacchiato sulla cosa. Inoltre, pare che inizialmente la scritta dell'aereo sia stata messa al contrario, come testimonio in alcuni tweet. Aimei, 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 n-au avut hava. Când e sus, când e sus, când e sus, când e sus, pot eu susa. Acum că nu, nu, nu mai am nimic de ascuns, pot să mă dus tot mai sus. Mai sus, mai sus, tot mai, tot mai sus, tot mai, mai sus, tot mai, mai sus, tot mai, tot mai sus, 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 sus. Și poate-ți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă-mbrac la costum, poate nu-mi spun minciuni, sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun. Știi, nimic nu mai e la fel, pupilăria s-a maturizat sever.